Desidera costruire un nuovo edificio, a modernarne uno esistente, oppure ottimizzare il funzionamento della sua costruzione già certificata Minergy, il tutto in modo semplice ed energeticamente efficiente? Allora Minergy le indicherà la strada da percorrere. Se ha già la possibilità di usufruire dei vantaggi di un edificio Minergy, ciò deve rimanere tale anche nel tempo. Per questo motivo, con SQM Esercizio, le offriamo una consulenza sul posto personalizzata e neutrale. Un esperto Minergy verrà a casa sua e verificherà se il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione sono impostati correttamente e di conseguenza funzionano in maniera efficiente. Al centro, quindi, non c'è solo l'edificio, ma anche i suoi utenti. Riceverà quindi dei preziosi consigli riguardo l'utilizzo consapevole dell'energia per il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria, l'elettricità e per un gradevole clima interno. Potrà beneficiare di un comfort ancora superiore, di costi d'esercizio più bassi e un elevato mantenimento del valore immobiliare. SQM Esercizio è un prodotto complementare ai nostri standard di costruzione e al complemento ECO. In questo modo, esso completa la gamma di prodotti Minergy a vostra disposizione dalla progettazione alla costruzione per giungere all'esercizio a lungo termine.